salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi finalmente è arrivato il giorno del test di lui il FIMI X8 SE 2022 questa terza versione di questo drone che comunque ha avuto tantissimo successo per rapporto qualità prezzo come sapete come ho già detto anche nell'unboxing il drone sia dalla sua prima versione di quattro anni fa ad oggi dal punto di vista estetico è rimasto praticamente uguale scelta di FIMI di non investire per quanto riguarda l'aspetto estetico però un continuo aggiornamento dal punto di vista hardware il drone ragazzi da sulla carta è tanta roba ovviamente rapportato al suo prezzo perché comunque con il coupon sconto scendiamo sotto i 400 euro con spedizione da magazzino europeo di banggood e quindi vi arriva in 35 giorni dal magazzino europeo quindi capite che il prezzo è davvero accattivante per un drone che ovviamente non è 249 grammi perché pesa poco meno di 800 grammi però sicuramente è un drone che per chi vuole avere qualcosa di più importante non un drone leggero lui è una scelta da tenere in considerazione nella sua fascia di prezzo oggi lo andremo a provare nei suoi aspetti principali ovviamente come faccio sempre nei miei test chi mi segue lo sa quindi lo proveremo in hovering proveremo ovviamente a fare video e foto proveremo a mandarlo un pochino lontano ovviamente senza esagerare non sarà un range test per fare poi un rth e vedere come si comporta rispetto al landing quindi di quanto si avvicina al landing quindi proveremo tutte queste funzioni proveremo anche l'active track con la bicicletta quindi una funzione che ha tanti interessi perché i prodotti fimi sia lui che il suo fratellino minore il fimi x8 mini ha l'active track quindi lo proveremo con la bicicletta quindi proveremo queste funzioni che sono le più interessanti ovviamente perché acquista questo drone poi le altre cose interessanti come ho detto l'unboxing è la possibilità che ha questo drone di volare anche quando piove e quando nevica una cosa che sicuramente proverò perché è dichiarato da film quindi non si va a fare niente di non dichiarato da film quindi qualcosa che film ci autorizza a fare volare quando piove e quando nevica e poi come sapete questo drone è un drone che anche l'idea elettronico ovviamente attivabile disattivabile dall'applicazione quindi un drone sicuramente innovativo se vogliamo perché comunque l'idea elettronico c'era il mavic 3 e c'era però stranamente anche il paro tanafi sebbene un drone molto vecchio comunque è uno dei pochi ad avere l'id elettronico che prima o poi come sapete diventerà obbligatorio allora vi dico subito le mie considerazioni perché ovviamente l'ho testato l'ho utilizzato chi mi segue su instagram anzi vi invito a farlo se già non lo state facendo ho portato vari post ovviamente dedicati a lui perché comunque la recensione che faccio oggi la faccio dopo averlo testato anche abbastanza intensamente come diciamo minuti di volo allora mi aspettavo di più per quanto riguarda la fotocamera perché comunque questa fotocamera viene data con un sensore da mezzo pollice quindi un'evoluzione rispetto alla versione precedente probabilmente film deve aggiornare e ottimizzare la fotocamera però abbiamo una fotocamera che poi giudicherete voi anche se oggi la giornata non è bellissima c'è tanta foschia quindi non c'è profondità di panorama perché c'è tantissima foschia c'è molta nebbia alta e come vedete anche poi dalla dj osmo action quindi stavo dicendo la fotocamera 1 non è ottimizzata dal punto di vista della gestione dei parametri secondo me è sovraesposta tantissimo cioè non gestisce in maniera automatica bene i parametri in manuale ovviamente si riesce a ottenere qualcosa di meglio però se uno lo vuole usare in automatico tende a sovraespore tantissimo le immagini e le foto e poi un'altra critica da sottolineare per questo drone sempre riguardante la fotocamera è sui video allora lui registra in 4k 30 fps nella sua risoluzione massima però abbiamo un bitrate di 60 megabit per secondo che se ottimizzati bene vanno anche benissimo perché comunque poi dipende uno cosa ci deve fare con quei video però non sono tantissimi se pensiamo che 60 megabit per secondo gli alvicopter falcon che ho portato qua sul canale per un drone nato due anni fa al giorno d'oggi il bitrate si aggira dai 100 120 o salendo ok però 100 è sicuramente diciamo la misura standard di un mini 2 per intenderci e se poi andiamo a pensare che il suo fratellino minore il film x8 mini ha un bitrate nella sua risoluzione massima di 75 megabit per secondo quindi 75 conto i 60 di questo su un drone 249 grammi sempre di casa fini ma non c'è qualcosa che non mi quadra penso che film migliorerà l'ottimizzazione appunto di questa fotocamera con gli aggiornamenti perché ripeto ovviamente lui è più nuovo rispetto al film x8 mini però già di partenza partiamo che lui con questa fotocamera più importante un sensore più grosso dimensioni a un bitrate più basso del suo fratellino minore ma c'è qualcosa che non mi torna e poi una cosa che odio dei prodotti fimi che sia questo che sia anche il film x8 mini che nell'applicazione abbiamo tre risoluzioni di qualità nel senso che noi abbiamo 4k 30 fps poi abbiamo qualità alta media o bassa ma perché devo mettere un 4k con risoluzione bassa quindi un bitrate schifosissimo allora mi faccio un video in 1080p e viene meglio di un 4k con risoluzione bassa quindi perché mi dai questa possibilità di fare una cosa di abbassare se già poi mi dai come limite massimo 60 megabit per secondo capite che se nella sua risoluzione massima sei già a quelle range perché devo scendere se già non è alto cioè non capisco perché dovrei abbassarmi di qualità mantenendo un 4k che diventa schifosissimo allora lo faccio in 2,7k me lo faccio in 1080p questo non vuol dire che i video attualmente facciano schifo o le foto facciano schifo assolutamente no perché parliamo di un drone che costa meno di 400 euro però secondo me per quanto il drone dovrebbe essere stato migliorato dal punto di vista appunto della fotocamera mi aspetto che firmi aggiorni il firmware e migliori sensibilmente la qualità video di questo drone che ovviamente succederà perché sicuramente l'handicap è proprio nell'ottimizzazione firmware quindi partendo dal presupposto che fa molto freddo ci sono circa 2 gradi la batteria non c'è perché come sapete io la tengo nella borsina termica con la pezzolina riscaldante per avere la batteria calda perché comunque con questo freddo se no si vanno a perdere minuti di autonomia se mettiamo una batteria fredda e poi rischiamo anche di avere un crollo improvviso quindi mi raccomando lo dico sempre soprattutto in questo periodo se siete al nord o volate in zone molto fredde di montagna non mettete la batteria fredda nel drone perché rischiate veramente che il drone vi venga giù improvvisamente perché la batteria crolla quindi mi raccomando non sottovalutate mai questo aspetto se volate al freddo ma detto anche questo adesso però è ora di decollare quindi preparo tutto e decolliamo con fini x8 se 2022 perfetto ragazzi l'x8 2022 è pronto e abbiamo 13 satelliti quindi abbiamo la possibilità di decollare subito faccio partire anche la registrazione video e andiamo a decollare ok ragazzi allora l'overing è questo secondo me è un overing niente male buono il drone sta fermo come vedete lui ha sotto l'optical flow e un sensore ad ultrasuoni quindi adesso faccio un giro col drone giusto per farvi vedere anche la qualità video che ha questo drone è una cosa che mi è piaciuta tanto il ritorno video perché comunque a questo nuovo sistema rock link di terza generazione quindi un wifi di proprietà come hanno ovviamente ormai quasi tutti i marchi più brazzonati di droni che hanno loro sistemi di wifi per aumentare il range e aumentare diciamo la qualità video nello smartphone e devo dire che mi ha sorpreso in positivo questo tanta roba lui adesso trasmette in 2,4 gigahertz come segnale wifi mentre le versioni precedenti di questo drone erano sui 5,8 giga quindi cambio di filosofia da parte di film adesso vedete ho tutto in automatico e quindi non ho cambiato niente nei parametri della fotocamera perché adesso ci tengo a farlo vedere così come gli ho detto c'è molta foschia quindi non si ha un grandissimo panorama c'è un leggero sole che sta uscendo adesso ma è veramente molto leggero adesso mi sposto di qua veniamo da questa parte abbassa un po la fotocamera così potete vedere il dettaglio che riesce avere questa fotocamera che secondo me film deve ottimizzare assolutamente perché comunque un sensore da mezzo pollice secondo me deve rendere di più nella gestione della luce perché sennò è inutile che mi metti un sensore da mezzo pollice sicuramente film interverrà perché comunque è un drone molto nuovo è dal punto di vista appunto poi della fotocamera è cambiato completamente rispetto alla versione precedente quindi capite che sicuramente da ottimizzare allora questo è quello che in grado di fare come qualità video adesso volevo scattare qualche foto quindi vedete che c'è molta foschia in fondo non è dovuta al drone quel bianco in fondo ma è dovuto proprio a questa nebbia che c'è quindi non scandalizzatevi se vedete col bianco in fondo non è il drone anzi abbassa la fotocamera così almeno non rimane nella foto allora le foto possiamo scegliere se averle in quattro terzi o 16 noni io le lascio in quattro terzi quindi foto una la facciamo di qua mi giro ne facciamo una di qua perfetto poi ne faccio una da questa parte ok allora abbiamo fatto tre foto giusto per rendere l'idea della qualità fotografica che ovviamente va un pochino di pari passo a quello che poi anche il video secondo me dal punto di vista della sovraesposizione allora il drone ha in questo momento è ad una distanza di 300 metri quindi già che ci siamo potremmo attivare le rth quindi vediamo come si comporta in questa funzione per attivare le rth basta tirare il pulsantino arancione che abbiamo in questa posizione verso destra e attiviamo le rth vedete auto return quindi aspettiamo che torna e vediamo come si comporta il landing e qua quindi è partito che mi sembra aveva 13 satelliti quindi abbastanza per essere un return to home di precisione sta ritornando faccio partire anche il video di registrazione così vediamo anche la qualità video già che stiamo tornando ancora un pochino ah no una cosa che non ho fatto è aumentare la risoluzione video entro nell'impostazione della videocamera vedete che qua abbiamo video quality 8 medium norma che è quello che vi dicevo perché devo avere queste risoluzioni quindi vado a mettere 8 che la risoluzione massima che poi sono 60 megabit per secondo mi ho dimenticato di farlo ma ma perché fimi quando il drone lo riavviamo su medium da solo quindi non rimane preimpostato nella qualità massima che abbiamo impostato dov'è che è qua sopra allora ci dice che il landing pad non l'ha trovato quindi sta arrivando e sopra di me più o meno mi arriva in testa secondo me quindi mi sposto così nel caso poi disattivo la rth dov'è che si è qui il landing non l'ha trovato opera lo manca di poco anzi no per me lo becca perché dice che non l'ha trovato vediamo no ma lo becca non è vero lo becca mi ha detto che non l'aveva trovato invece lo becca perfetto atterraggio perfetto io non ho toccato niente tanta roba perfettissimo è uscita la scritta che non trovava il landing invece devo dire che l'ha trovato eppure bene allora come vi ho detto adesso magari ridecolliamo rifaccio un altro giro veloce dal punto di vista della qualità video che come vi ho detto non avevo aumentato la risoluzione era su medium perché di default come fa anche il film x8 mini quando riavviamo il drone la volta dopo che siamo andati a volare in automatico passa sempre su medio non rimane mai su massima e non ho capito perché lasciamela su massima al massimo l'abbasso no sempre su medium e qua uguale mi sono dimenticato perché ovviamente con gli altri droni uno non c'è bisogno di farlo due nel caso tipo app san zino mini pro una volta che ho impostato i bitrate che voglio rimangono quelli non è che tutte le volte devo andare a regolarli quindi fini per favore se io imposto quella lasciami quella poi al massimo me la vado a rimodificare io non modificarmi la te quindi aspettate calcio la videocamera che tutta verso il basso perché ho inquadrato il landing allora andiamo a vedere che impostazioni mi dà adesso adesso è su ancora sui tre comunque il drone non l'ho spento ma se spengo il drone lo riaccendo va su medium quindi ridecolliamo video attivato andiamo a decollare quindi decollo automatico doppia sgasata e via perfetto quindi ci sta così adesso avete la qualità video migliore ovviamente il discorso medio normale o qualità alta è solo per i video non per le foto quindi mi piace tanto le prestazioni di questo drone che adesso siamo in modalità normal quindi la modalità normale ma viaggia che è uno spettacolo infatti a differenza dei droni dj ai o di altri droni che utilizzo ho dovuto regolare sia l'esponenziale che la sensibilità perché sono veramente questo è cattivissimo e ha una gradualità che non mi piaceva perché si muoveva troppo rapidamente cioè da poco a tanto invece regolando l'esponenziale perché comunque come vedete entrando nelle impostazioni qua possiamo andare regolare vedete esponenziale sensibilità vi trovate quella più adatta alle vostre caratteristiche siamo a 340 metri e vedete che il ritorno video ragazzi è spettacolare non ha un minimo lag anche la qualità nello smartphone è buona vedete anche quando mi giro come rimane ottimo sotto tutti i punti di vista davvero davvero tanta roba per quanto riguarda la qualità video nello smartphone abbasso la videocamera così vedete anche magari i dettagli delle piante piuttosto che del terreno per farvi un'idea della qualità video e vedete che comunque il drone è un gran bel drone secondo me si mi risolve la fotocamera e la ottimizza ragazzi è sicuramente un drone che merita perché ragazzi caldita prezzo tanta roba vi ho detto con il coupon sconto scendete sotto i 400 euro spedito dall'europa quindi è tanta tanta roba adesso mi sono fatto un bel giro così avete visto la qualità video di questo drone adesso ragazzi direi che possiamo provare l'active track vengo qua vicino a me proviamo l'active track con la bicicletta ovviamente valutate sempre che lui non ha i sensori anticollisione anche in questa terza versione fimi non li ha introdotti quindi quando fate l'active track ricordatevi che se ci sono degli ostacoli lui ci sbatte conto quindi valutate sempre bene dove andate a fare l'active track allora per fare l'active track è semplicissimo entriamo nelle modalità di volo automatiche ne ha tantissime come vedete poi magari ne vedremo anche altre prossimamente perché comunque abbiamo anche i we point come tutti i droni fimi ha anche i we point perché anche il suo piccolo film i we point abbiamo le funzioni di volo automatiche vedete rocket e droni sarebbe praticamente allontanarsi e salire adesso entriamo però nell'active track e quindi entriamo in smart track che come avete visto viene dato come versione beta quindi è in aggiornamento quindi non è ancora ottimizzato abbiamo tre possibilità di active track trace in cui ci segue profile che ci segue ovviamente di profilo è lo che in cui lui sta fermo sul posto e ruota seguendo il soggetto quindi noi andiamo a provare in questo momento trace andiamo a selezionare il soggetto con il dito in questo caso io ovviamente e andiamo a fare go perfetto in questo momento il drone ci segue una cosa che ho notato che quando fa l'active track abbassa il bit rate anche questo non so se è una cosa provvisoria ma praticamente passa in modalità media e non in modalità qualità massima e questo lo fa anche l'apsan zino mini pro però magari qua è una cosa provvisoria perché comunque avete visto che è in beta quindi non so se anche questa cosa è una questione di beta o meno perfetto potenza della bici al massimo e andiamo vedete che sta arrivando giro perché c'è la pianta ok arriva sta arrivando sì mi segue perfetto adesso gli vado incontro mi fermo provo a andargli incontro si retrocede guardate spettacolo ovviamente che questa funzione di retrocedere va attivato nell'applicazione che di default è disattivata come anche per il film x8 mini ok adesso giro vediamo arriva guardatelo lì spettacolo sta arrivando torno nel mio accampamento ed eccolo qua arrivato si direi che l'active track secondo me lo fa bene ovviamente qua ci sono tante piante quindi ho un po paura andare con la bici vicino alle piante perché non vorrei andare a sbattere quindi recupero la telecamera ok allora siamo anche d'allarme batteria quindi lo faccio venire verso il landing aspettate che mi giro che manco lo vedo che c'è un sacco di luce adesso prima non c'era il sole adesso è da quasi fastidio atterraggio ok landing beccato allora ragazzi aspettate che spengo tutto e tiriamo le conclusioni finali allora ragazzi com'è questo film x8 s 2022 secondo me un bellissimo drone un gran bel drone cioè lui vola benissimo vola sicuro avete visto anche l'rth preciso arrivato sul landing sebbene la videocamera non vedeva il landing quindi ha fatto tutto con la posizione del gps e ragazzi avete visto che ha beccato il landing in maniera perfetta anche se io pensavo che non lo beccasse perché diceva che non vedeva il landing invece l'ha beccato e questo ragazzi me l'ha fatto in tutti i test che ho fatto in questi giorni ha sempre beccato il landing poi la videocamera purtroppo avete visto a questo limite da migliorare nell'ottimizzazione perché secondo me la videocamera sicuramente è migliorata rispetto alla versione precedente ma va ottimizzata se no era meglio con la precedente che era ottimizzata quindi penso che film interverrà sicuramente con gli aggiornamenti perché un drone ovviamente nuovo e se migliora la fotocamera è un drone secondo me fantastico per quanto riguarda ovviamente il suo rapporto qualità prezzo perché comunque è davvero un drone concreto si vede che ha tanti diciamo anni di sviluppo sulle spalle appunto dalla prima versione ad oggi perché vola benissimo comportamento in volo fantastico anche l'overing avete visto impeccabile le fotografie anche loro da migliorare ma sempre per lo stesso difetto che ha la videocamera punto di vista dell'ottimizzazione dei parametri automatici se no bisogna gestirli in manuale per avere un risultato migliore perché secondo me tutto è sovraesposto come vi ho detto poi commentate anche voi la vostra opinione poi il bitrate che sicuramente anche nella sua risoluzione massima non è alto perché parliamo di 60 megabit per secondo quindi non altissimo nei suoi 4k a 30 fps questa cosa fastidiosa come avete visto che ogni volta che riavviamo il drone lui di default si imposta in risoluzione media che perché devo mettere media che già quella massima non è il massimo quindi mi fa niente nervosa ma questa cosa che devo andare ogni volta a modificare un parametro che avevo modificato ma questo anche perfimi x8 mini la stessa identica cosa poi il ritorno video fantastico avete visto che non abbiamo fatto un grande range di distanza siamo arrivati forse intorno ai 400 500 metri ma ragazzi è un ritorno video impeccabile ovviamente magari faremo un range test dove ve lo faccio vedere più nel dettaglio e ovviamente non potevo farlo oggi perché se no non avevo più la batteria per poter fare tutto il resto dei test e vi assicuro però che è fantastico secondo me questo ritorno video è buono sia dal punto di vista della definizione che abbiamo nello smartphone che proprio nel lag perché comunque quello dichiarato da film per questo nuovo rocklink questo wifi di proprietà di casa fini è anche appunto il ritardo video che è passato mi sembra ad essere attualmente di 130 millisecondo di ritardo e questo si vede quindi si vede sia la qualità del ritorno video che la latenza che veramente adesso è molto molto bassa davvero tanta roba quindi questo ci rende il volo davvero sicuro in ogni situazione e vi assicuro che qua sebbene siamo nei campi comunque le case non sono lontanissime non è un'area pulita dal punto di vista del wifi cioè non siamo su un lago su mare dove tutto a livello di wifi non esiste qua le case non sono lontane vi assicuro che anche altri droni tendono ad una certa distanza andare in crisi di interferenze una cosa che voglio provare prossimamente attivare l'id elettronico e provare appunto se viene rilevato il drone dall'applicazione dedicata per fare queste cose quindi una cosa che voglio provare prossimamente provare tutto oggi non riuscivo causa una batteria ovviamente perché una ne ho e quella mi deve bastare poi il radiocomando che rimane lo stesso di tutte le versioni precedenti dal punto di vista ovviamente dei tasti della configurazione ed è davvero davvero ben fatto mi è sempre piaciuto sebbene strano dal punto di vista delle diciamo della concezione rispetto a quelli che abbiamo attualmente sugli altri droni ma è davvero incredibile anche perché ci stanno tablet di dimensioni davvero incredibili cioè guardate quello che c'è all'interno adesso è un iphone 12 pro e guardate quanto margine abbiamo ancora volendo dal telefono comunque già di dimensioni abbastanza importanti e poi due cose che ci tengo prima o poi a provare ma ho bisogno delle condizioni che me lo permettano perché comunque non posso farlo se quelle condizioni meteo non ci sono sono il discorso pioggia neve perché ci tengo a vedere come vola perché comunque possedendo il power x chi mi segue lo sa l'ho fatto volare con neve temporale acqua di tutto di più perché comunque lui vuole in quelle condizioni sono curioso di vedere come lui vola in quelle condizioni e l'altra cosa che mi piacerebbe provare ma secondo me è molto difficile che riesca perché comunque dovrei avere proprio la condizione ideale è il vento perché lui viene dichiarato per vento di livello 8 quindi questo vento veramente pazzesco che dovrebbe arrivare intorno ai 70 chilometri orari e se pensiamo che il mavic 3 è dichiarato per un vento di livello 6 capite che sarei curioso di vedere come gestisce lui questo vento sopra i 60 chilometri orari sono davvero curioso di vederlo però fin mi lo dichiara ma però ovviamente non è che tutti i giorni ci sia un vento con queste caratteristiche è più probabile che riesca a farlo volare con la pioggia o con la neve quindi ragazzi le mie considerazioni finali sono se volete un drone che ovviamente ha bisogno del patentino per essere utilizzato perché pesa più di 249 grammi ma non volete spendere cifre importanti come quelle per gli altri droni di questa fascia di dimensioni e peso lui fa il caso vostro perché comunque vi dà tutto quello di cui avete bisogno e lo pagate come vi ho detto circa 400 euro anche meno con i coupon sconto qua sotto in descrizione con consegna 35 giorni dal magazzino europeo di banggood quindi tanta roba per consegna e prezzo e poi è un drone che è completo sotto a tutte le funzioni automatiche avete visto comunque l'active track nelle sue tre possibilità highway point all'opzione point of interest quindi girare intorno a un punto di interesse da questo punto di vista è davvero super super completo quindi ragazzi scusatemi se il video è diventato lungo ma quando provo un drone mi piace dire tutto di quel drone perché se ve lo devo consigliare se dovete avere un'opinione vostra su come si comporta tutto ovviamente dovete avere tutto il quadro completo per quanto riguarda almeno gli aspetti principali del drone quindi ovviamente poi il video diventa lungo però se lo faccio corto mancano poi gli elementi per valutarlo nel bene e nel male quindi ragazzi se questo mio video test è del film x8 se 2022 vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novitante prime voli in fpv spoiler di tutto quello che porto di lui tantissimi spoilerini erano arrivati quindi vi invito a iscrivermi al mio profilo instagram se non l'avete ancora fatto e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial una novità ciao e al prossimo video